Contro il C, contro il V. I soliti due comandi, insomma. Quelli del copia e incolla, la solita trama in buona sostanza, quella che prolunga ancora la maledizione della prima vittoria. L'avrebbe meritata la Fidelisandria al Massimino di Catania contro la Sicula Leonzio nel turno infrasettimanale della tredicesima giornata. Ha giocato un buon calcio, ha imposto il proprio gioco e la propria personalità è passata momentaneamente in vantaggio in chiusura di prima frazione. Grazie al secondo centro personale di Riccardo Lattanzio ha sfiorato tante, tantissime volte nel corso della ripresa l'acuto del raddoppio mancato. Per sfortuna poco cinismo o interventi del portiere avversario e poi ha subito anche e soprattutto la beffa nei minuti finali. Bravi i siciliani a restare in partita ma anche parecchio aiutati dal direttore di gara in occasione del rigore concesso con estrema generosità e trasformato da arcidiacono ex di turno. Un film già visto in precedenza altre quattro volte con tanto di momentaneo vantaggio e aggancio subito solo nelle battute conclusive. È accaduto sabato scorso alla Degli Ulivi nel derby con il Lecce. È successo anche al San Vito Marulla con il Cosenza e ancora tra le more amiche con la Casertana. Diventano tre con quello del Massimino i pareggi consecutivi dei Biancazzurri di Valeriano Loseto compreso lo 0-0 di Catanzaro che ha inaugurato questo filotto. Niente vittoria ancora dicevamo il periodo delicato. Ad ogni modo sembra superato la Fidelis è tornata ad esprimere un buon gioco con il punto contro la Sicuda Leonzio. Non è più sola in ultima posizione in classifica e soprattutto può godersi due notizie confortanti. La Tanzio ha trovato finalmente il feeling con il gol Nadarevic, autore dell'assist per il 10 Biancazzurro, ha dimostrato in proiezione futura di poter essere molto utile alla causa e diventare un'arma in più per l'attacco dell'Andria. Capitolo societario. Notizie ufficiali dopo la conferenza stampa del Presidente non ce ne sono. Voci sempre più insistenti in ogni caso racconterebbero di un allontanamento dei cerignolani di Nisi e De Cosmo con i quali, contrariamente a quanto affermato da Montemuro nella conferenza stampa, non ci sarebbe stato alcun vincolo contrattuale di prelazione sull'acquisto di parte delle quote.